Wuhuuu let's go baby it's overwatch beta time ragazzi sono appatissimo sono stato senza la beta di overwatch per più di due settimane e mi mancava un casino giocare a questo gioco quindi come state vedendo qui queste qui sono tutte cinematiche prese dai corti animati che ha fatto la blizzard ragazzi non vedo l'ora di giocarci questo oggi è un brevissimo video perché voglio anticiparvi che oggi giocherò tutto il giorno ad overwatch su ps4 ovviamente poi non lo so forse stasera magari giocherò anche su pc non lo so ancora vedremo ovviamente ci giocherò su pc durante questa settimana che va dal 3 al 10 beh chi di voi ha preso la beta di overwatch l'early access o ha il codice e vuole giocarci fatemelo sapere qui sotto ovviamente fatemelo sapere in streaming oggi pomeriggio o stasera let's go baby la chiamata degli overwatch let's go let's go